Abbiamo essenzialmente pescato con due tecniche, il Froating Peder, quindi con l'utilizzo di un Chompers e poi con la montatura classica running rig, con un block nende, con un bigattini sul fondo alla ricerca di qualche barbo. Allora, quando affrontiamo queste situazioni pesca pratica in fiume, in cui dobbiamo portare con noi l'indispensabile, questo sistema che abbiamo ideato appunto per poter cambiare facilmente le montature, quindi passare da una montatura running rig e magari al method, è costruito semplicemente con una guaina, sulla lens amare abbiamo legato una girella a sgancio lapido a cui andremo poi a collegare le varie montature, la guaina una volta inserita la montatura la andremo a passare sopra la girella e i nodi, in questo modo noi eviteremo che la nostra montatura, il nostro amo pescante vada a intrecciarsi perché abbiamo comunque ridotto l'incaglio. Se vogliamo passare quindi da questa montatura al method che abbiamo per esempio noi già realizzato e già pronto, in questo modo abbiamo, ecco qua, qui abbiamo la montatura al method e qui dobbiamo fare altro, in questo caso inserire il nostro pasturatore method round in line o l'excel andando ad inserire da questa parte dall'asola, tutte le montature le realizziamo con uno spezzone dello 0,25 di circa 40-50 cm quindi con un'asola che poi andremo a collegare alla girella a sgancio lapido, in questo caso noi abbiamo realizzato appunto la montatura per il method, con la nostra, basta là inserire il method, lo andiamo ad inserire facilmente dall'asola, in questo modo e lo andiamo a collegare facilmente alla nostra canna, una volta aver tolto la montatura precedente, lo togliamo, andiamo a inserire, andiamo a ricroprire tutto con la nostra guaina, abbiamo ottenuto la nuova montatura, naturalmente la guaina sarà di lunghezza tale per poter coprire sia la girella a sgancio l'apido che il nodo e siamo passati dalla montatura lana rig alla pellet feeder oppure inserendo un round in line passeremo al method, essenzialmente abbiamo fatto delle catture, l'abbiamo effettuata a chompers perché comunque in un fiume pescando sul fondo magari troviamo più incagli nonostante comunque balbi con la classica montatura con un blocco nendo l'abbiamo comunque catturati, bastano montare in sequenza uno stopperino, una girella con un moschettone e un altro stopperino a bloccare la girella. Successivamente effettueremo una brillatura a chiudere una girella a sgancio l'apido e il nostro terminale che in questo caso è uno 0,10 di circa 40 centimetri in cui abbiamo collegato un amo del 20 della serie 229 per vincere la diffidenza dei cavetani. Questa è la montatura che oggi ha reso maggiormente e ci ha permesso di catturare i bellissimi cavetani in Santerno.